Perché tra gli svolti della pandemia e del virus ci sono anche molti animali che soffrono, vengono abbandonati perché magari le famiglie, le loro famiglie hanno dei problemi, magari il proprietario viene ricoverato spesso può succedere anche che il proprietario non ce la faccia Cosa ne è di questi animali? Vi raccontiamo questa bellissima storia di chi si occupa di loro, guardate Per chi si ammala di covid è complicato prendersi cura dei propri cani i volontari Leida si occupano degli amici a quattro zampe proprio di coloro che sono in quarantena o ricoverati e diventano la nuova famiglia di chi purtroppo perde la battaglia contro il virus Buongiorno, sono Deborah della Leida, sono venuta a prendere Gigio È da tanto che siete in quarantena È dal 24 novembre, siamo tutti pesanti, più interventi non possiamo uscire, quindi arrivo al 18 dicembre Aiutando gli animali aiuti anche le persone Essendo in quarantena o positivi, sicuramente non è che stanno passando un periodo particolarmente semplice Passare il periodo della quarantena in casa comunque da soli, birba ci ha dato comunque la gioia Mi sono ammalata il 12 di novembre con una polmonite da covid perché io sono un medico e lavoro in ospedale La mattina dopo io ho avuto Mavi a casa che assiduamente per 21 giorni, mattino pomeriggio, è sempre stata presente La preoccupazione per chi si ammala, poi lei lavorando nel settore, la si percepisce forte Ci sono più di 6500 richieste di aiuto e 700 animali presi in carico In questo periodo sta diminuendo in alcune regioni come la Lombardia, però purtroppo sta aumentando in altre regioni come il Piemonte in Sud Italia Sono venuta a prendere Jack Per quanto tempo ancora è previsto che rimarrete in quarantena? Ho fatto il tampone, sto buttando l'edito Il proprietario era un signore albanese che di 80 anni circa aveva questo cane a cui era legatissimo perché il cane per lui era tutto Questo signore non voleva andare in ospedale per non lasciare solo Mili Mili ha un fantastico regalo di Natale perché una famiglia meravigliosa lo sta aspettando E viva allora Leida, in diretta con noi c'è Michela Vittoria Brambilla, presidente di questa associazione Che ringrazio molto per quello che fa e vuole lanciare un appello attraverso di noi Buonasera, buonasera a tutti Beh, intanto non posso che ringraziare questi fantastici volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente La situazione che come diceva ho l'onore di presiedere perché dal nord al sud dell'Italia incessantemente si prendono cura di questi animali Per togliere alle persone che sono già angosciate perché lottano con il virus Almeno l'angoscia di non poter provvedere ai loro piccoli amici che sono membri della famiglia E siccome, come nel servizio si è ben detto, purtroppo tante volte le persone perdono la loro battaglia contro il covid La nostra Leida ha tenuto con sé troppi, tanti, tanti cani e gatti che sono ovviamente molto tristi Che sono disperati, hanno perso tutti i loro punti di riferimento Diciamo in chiusura cosa possiamo fare per chi si vuole adottare un cane Possiamo regalare loro una nuova vita Noi abbiamo realizzato questa campagna È Natale, ricordati di me Per cui sul sito www.leida.com Le persone possono vedere i musici di questi cani, di questi gatti Conoscere le loro storie e adottare Io credo che sia il più bel regalo di Natale che la famiglia possa fare a se stessa Intanto perché un animale nella vita è la gioia più grande E un grande regalo anche a questi piccoli quattro zappe sfortunati Allora, ci lasciamo con questa idea di regalo di Natale Andate su questo sito se volete Salutiamo Michela Brambilla e il suo cagnolino come si chiama? Questo si chiama Viola È una grandadina di Sicilia Bellissimo Come sapete ne ho tantissimi e questi cagnolini del sud hanno bisogno di tanto amore Perché il radagismo è ancora un deplorevole fenomeno Allora, buon Natale Michela Brambilla Grazie a tutti